Il backup di Whatsapp da Android a iOS e viceversa è davvero un incubo senza il software giusto. Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video dove parleremo di un software che ci tornerà molto ma molto utile quando per farci del male passiamo da iOS ad Android o viceversa, perché questo passaggio ogni volta potrebbe essere davvero traumatico. Ma prima di andare a vedere questo software prodotto da Tenorshare che ho trovato davvero molto utile solito metto supporto, lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessuna novità e commentate per farmi sapere le vostre opinioni e ovviamente seguitemi su TikTok dove ci sono contenuti molto interessanti in meno di un minuto. Se avete bisogno di assistenza informatica gratuita o più semplicemente di un consiglio, scrivetemi su Instagram o tramite il mio canale Telegram di supporto, aiuto veramente tutti. Link sotto in descrizione. Ma basta chiacchiere e andiamo cari amici subito al sodo. Purtroppo o per fortuna sappiamo che Android e iOS sono due realtà che nel loro essere simili sono molto diverse e non vanno molto d'accordo. Io le uso entrambe, vi posso garantire che molte operazioni che dovrebbero essere semplici non lo sono. Farò un video di confronto fra le due piattaforme dove andremo a smascherare anche i falsi miti ma questa cari amici è un'altra storia. Oggi però parleremo di un qualcosa di rognoso ovvero il trasferimento di WhatsApp tra i dispositivi di copertino e il robottino ma anche da iPhone ad iPhone. Operazione che io magari sarò una pippa ma sono pur sempre un informatico e anche un super smanettone e cari amici non vi nascondo che da piccolo sono caduto nel calderone dei transistor un po' come è avvenuto con Obelix e la pozione magica e dovevo fare questa operazione di trasferimento di WhatsApp da un iPhone a un altro iPhone di recente a un altro super informatico in un covo di informatici. Già far ridere così la cosa ma dopo un'ora diverse paroline magiche cari amici che non si possono dire qui nessuno di noi ne era uscito. Beh questa esperienza mi ha portato a creare questo contenuto dove mostro come rendere l'operazione semplice e alla portata di tutti anche della casalinga di Vogueira. Ma vediamo più da vicino questo iCareFone di Tenorshare che è disponibile sia per Windows che per Mac. Parliamo un po' delle specifiche innanzitutto è in grado di trasferire WhatsApp anche business tra dispositivi Android e iOS e viceversa inclusi video, immagini e file e funziona anche con l'ultimo iOS 17 e ve lo posso confermare che funziona perché io da developer ho il software in anteprima. Analoga cosa poi è possibile farla con GBWhatsApp che è una versione di WhatsApp modificata disponibile solo per Android, non vi nascondo che prima o poi la proverò e anche di questo vi porterò se lo volete un video un po' più accurato. Quindi backup e ripristino completo dell'applicazione di messaggistica più utilizzata con foto e video inoltre è possibile anche backup e ripristino di altre due app di messaggistica forse un po' meno note ma comunque valide come Viber e Kik. Ma andiamo a provarlo e per prima cosa andiamo sul sito di Tenorshare, il link lo trovate sotto in descrizione facciamo clic su prova gratuita quindi avviamo l'installazione che avviene in pochi secondi e ci troveremo in interfaccia pulita e intuitiva dove la prima scelta è l'applicazione social quindi selezioniamo ad esempio WhatsApp Business che è quello che ho io sul mio iPhone e ci troveremo di fronte a un'interfaccia molto intuitiva che ci invita a collegare entrambi i nostri smartphone per un backup ripristino al volo, ad esempio possiamo fare un backup del nostro iPhone potendo poi anche controllare il contenuto del backup stesso accedendo a chat, foto, audio e video davvero fantastico anche perché fin qui è tutto gratuito e decisamente molto intuitivo ma ora colleghiamo i nostri due dispositivi, io ho usato un iPhone 13 e un Hot Web Note 12 quindi uno smartphone veramente low cost e l'ho fatto volutamente per mostrarvi la piena compatibilità un po' con tutto e quindi proviamo a fare il trasferimento completo del mio WhatsApp Business ora quando procediamo veniamo invitati ad acquistare la licenza e ci viene anche mostrato quali sono i vantaggi dell'applicazione licenziata e possiamo scegliere se acquistare un mese, un anno o una licenza lifetime che soprattutto se cambiamo spesso smartphone mi sembra quella più conveniente fatta la nostra scelta inseriamo il seriale e la nostra email e avviamo la procedura di trasferimento e in questo caso ci verrà mostrato un wizard dove ci viene indicato di attivare la modalità sviluppatore e quindi il debug USB sul nostro smartphone Android fatto ciò potremmo avviare il trasferimento una volta fatto il backup del telefono sorgente che ricordiamo in questo caso è un iPhone ci verrà chiesto di mettere il nostro numero di telefono e il codice di conferma che ci arriverà cari amici tramite SMS o tramite chiamata fatto ciò selezioniamo gli eventuali elementi che vogliamo escludere dal trasferimento e clicchiamo su continua e dopo pochi istanti ci verranno mostrati tutti i passaggi da fare sullo smartphone ricevente e cari amici il gioco è fatto con due semplici clic e nessun tipo di esperienza siamo riusciti a fare in piena autonomia un'operazione che spesso è veramente rognosa e con altri approcci non è proprio cari amici alla portata di tutti fammi sapere sotto nei commenti se hai mai fatto un trasferimento di Whatsapp da iOS a Android o viceversa così mi potrai raccontare la tua esperienza bene cari amici il mio video termina qui mi raccomando condividetelo noi ci vediamo in un prossimo contenuto come sempre con tante novità attivate la campanella per non perdervelo un saluto dal mastro di YouTube che ora è anche su TikTok grazie a tutti Grazie a tutti.